Torniamo a parlare di un fiore all'occhiello della nostra città, il riconoscimento che è stato ottenuto un paio d'anni fa come Biella Città Creativa Unesco. A prendere la parola è l'assessore Barbara Greggio che proprio in queste ore è a Pesaro per lavorare su questo importante progetto insieme alle altre città creative e sottolinea l'intenzione di voler imbastire fortemente tutta una serie di progetti. Ricordiamo erano sei progetti approvati nell'ambito della candidatura, bisogna assolutamente portarli a termine, almeno una parte, per pena la non riconferma di questo titolo verso ottobre-novembre 2024. Questo è uno step basilare, importante perché in questo lasso di tempo bisogna dimostrare di avere portato avanti una serie di lavori efficaci, importanti in linea con quella che è l'agenda 20-23. È importantissimo, l'assessore ci tiene in modo particolare, sottolinea che il Comune e l'associazione che è stata creata proprio per lavorare sulla questione città creativa Unesco sta ragionando fortemente su come ripartire dopo il Covid. Ovviamente ci saranno anche i partner che hanno collaborato. L'assessore ha detto letteralmente, insomma, il mutuo aiuto importante della Fondazione Cassa di Risparmio, dell'Unione Industriali, della Fondazione Pistoletto, di tutti coloro che vorranno interagire col Comune. Ovviamente l'aiuto è sempre ben accetto, sono partner importanti, ma il Comune di Biella rimane assolutamente il traino di questo progetto. I bandi, ad esempio, devono essere pubblicati unicamente dal Comune, i concorsi devono essere indetti in modo obbligato dal Comune di Biella e quindi nella persona dell'assessore a questa delega importantissima Unesco. L'assessore, dicevamo, sta viaggiando in queste ore proprio per portare avanti tutta una serie di progetti nell'ambito, ricordiamo, dei sei che sono stati presentati in tempo di candidatura. Persino il Presidente della Regione, Alberto Cirio, aveva ricordato che questo è un riconoscimento importante, ma bisogna saperselo tenere. Quindi, insomma, sicuramente vi daremo conto dei prossimi interventi. Barbara Greggio sottolineava che il primo in ordine di tempo sarà la piantumazione di alcune piante che hanno il beneficio di assorbire le polveri sottili. Nei prossimi mesi sicuramente ci saranno novità perché Barbara Greggio ha in mano la questione e sta lavorando per questo.